Purtroppo questa operazione è soltanto l'ultima di una lunga serie, abbiamo già osservato nel corso degli anni precedenti con l'operazione Ramoscello d'Olivo e le precedenti operazioni, senza contare ovviamente anche con la repressione interna a seguito del fallito golpe, una scelta da parte dell'attuale esecutivo turco, da parte del presidente Erdogan di porsi in atteggiamento di totale rottura rispetto ai valori e ai principi fondamentali dell'Unione Europea. Questa operazione si pone anche ovviamente in contrasto con il diritto internazionale, una vera e propria invasione del territorio di un altro Stato, in questo caso confinante, ma soprattutto mette a repentaglio il popolo kurdo, un popolo che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di vite, voglio ricordare gli oltre 13.000 combattenti, soldati e soldatesse kurde della Rociava che hanno perso la loro vita anche per la nostra sicurezza, anche per consentire a noi di sconfiggere la barbara di Daesh e in questo momento sono costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre ancestrali per rifugiarsi poi in altre zone all'interno della Siria. Questo non è accettabile, abbiamo ribadito con forza che deve esserci un embargo da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dell'export di armi verso la Turchia, ma abbiamo anche chiesto di chiudere il processo di adesione della Turchia stessa in quanto ormai i criteri di Copenaghen non sono assolutamente rispettati per via appunto della situazione dello Stato di diritto all'interno del paese ma per via anche della sua agenda geopolitica estremamente aggressiva e ben poco vicina a quel concetto di multilateralismo, di difesa della pace che invece è proprio dell'Unione Europea. Non c'è più spazio quindi per continuare a far finta di nulla e soprattutto per essere ricattati a seguito della scelta improvvita di qualche anno fa di esternalizzare, di appaltare alla Turchia la gestione dei flussi migratori. Questo ci mette ogni volta in condizione di essere ricattati, quello che sta facendo in questo momento Erdogan e il Parlamento ha chiesto ovviamente una reazione forte, noi la chiediamo ancora di più per difendere la nostra coerenza e difendere i nostri principi. Il ministro degli esteri aveva promesso una rapida adozione dei decreti ministeriali per bloccare l'export di armi verso la Turchia però quei decreti non sono mai arrivati. Spero che arrivino il prima possibile, questa è la nostra posizione, l'abbiamo espressa sin dal primo giorno è bene che l'Italia abbia assunto un impegno chiaro ma ovviamente l'impegno deve essere mantenuto nel più breve tempo possibile. Come dire, l'accordo raggiunto tra Erdogan e Putin e dal ministeriale della difesa di domani cosa attendete, in particolare Guerini che si fa la portavoce con una richiesta più forte all'interno della Nato per cercare di presa una posizione più chiara anche da gli alleati? Deve essere presa perché altrimenti rischieremmo come al solito di essere osservatori e non attori all'interno dei fenomeni. Questo accordo con la Russia, così come l'accordo con gli Stati Uniti, testimonia un fatto che noi non siamo percepiti come un attore rilevante né nel campo della mediazione né nel campo appunto della difesa dei diritti dei più deboli, in questo caso appunto dei miliziani, dei cittadini kurdi costretti a lasciare le proprie case. Un'Europa che purtroppo ancora oggi in qualche modo degrada a se stessa al semplice ruolo di payer e non di player quindi di pagatore ma non di vero e proprio giocatore all'interno dello scacchiere. Con questo lungi da me chiedere appunto di adottare condotte aggressive come quelle di altri player globali e regionali ma al contrario la volontà invece di essere un forte attore di mediazione e di essere pienamente presenti per far capire a Erdogan che lo status di membro della Nato ma soprattutto lo status di paese candidato non si possono in alcun modo giustificare a fronte di scelte come quella che è accaduta negli ultimi giorni. Quindi ribadiamo con forza anche nella sede ministeriale, sarà bene che lo faccia il ministro Guerini nelle nostre posizioni ma soprattutto chiediamo al nuovo alto rappresentante di essere ancora più deciso e presente all'interno di questo processo ma soprattutto di evitare che come al solito bastino gli accordi con le due delle principali potenze mondiali per poter scavalcare il diritto internazionale, quello che di fatto è accaduto perché comunque Erdogan giocando sia sul tavolo di Washington sia sul tavolo di Mosca ha esattamente ottenuto quelle garanzie che voleva a suo da tempo per poter creare questa buffer zone questa zona di occupazione all'interno del territorio siriano e poter scacciare quindi i kurdi dalle loro case con la pretesto di intervenire contro il terrorismo. Questo non è accettabile da parte nostra e ribadiamo invece non soltanto la necessità dell'export di armi ma anche di riconsiderare seriamente veramente un processo di adesione a cui non crede più nessuno specialmente Ancara viste le sue scelte.